E qual è il tuo nome? E qual è il tuo nome? Non lo vedo, non lo vedo Ora questa dama di qui, la Sofia Loren di questo barrio E per favore un piccolo corte della barata Un montoncino Un piccolo corte, e a chi sono centra i quattro cartas? Io faccio la volta, e per favore un corte più grande Ma notiamo a porti la Tunglas Perfetti Facciamo la volta E La prima carta che sta tumbata è la tua carta di corte Mirala, ma non la insegna a nadie E finalmente per questa banda E questa dama corta prondecchiera che la cosa sta facendo larga Due montoncino, io noto con res La tua carta di corte Mirala, ma non la insegna a nadie Perfetto E qual è il tuo nome? No No No, esattamente i quali a nadie Perfetti Rock Arrivato il tuo momento Overe al sol Oh, una carta di vocata La insegna il due Insegna le segnali due di pica Se alcuni di voi tiene il due di pica, per favore Sansone tiene il due di pica Applausi per Sansone No, momenti Rock, ora il papè per la meitat Per cui insegnare Tre di diamanti Alcuni tiene tre di diamanti Sofia Loren tiene tre di diamanti E un momento, un momento Rock E per favore, poti insegnare la tua carta A tutto il pubblico A ver, qui Mi hai dejato la gaffa e non ho nada Per un momento Ah, Cinco di Trevoli Cinco di Trevoli Cinco di Trevoli Rock, aprire la carta E insegnare Il Cinco di Trevoli Sansone di Tarraco Un momento E sta pensando Perché non sa cadere a casa Bene qui Il Sansone di Tarraco E necessitiamo per questo numero Una baraja di carti Baraja di carti Una baraja di carti Attenzione Signore Signore Bambini il pubblico la vista pure, eh? La vista è rapido, eh? Fluff, 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 fluff. Vino, vino. Che? Che stas facendo? La mezcla è invisibile, è tan rapido che non se ve. Mira, fluff, 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 e stava, raffa. E allora, prende una carta qualquiera. Esa no. Sansone, pilla la indiretta. E allora, signore, signore, alla di tre, tutto il mondo dirà, una carta. A la una, a la due, e a la tre. Tre pepino cerca un repartidore entre il pubblico. Un bambino o una bambina, che così le pagamo meno. Oh, Marchelo Mascalfore è un explotatore. Attenzione. Vieni tu, a giocare, no? Vieni, vieni a giocare, vieni. Perfecto. Vieni a giocare. Vieni a giocare. Si? Muy bien. Come il tuo nome? Fatou. Fatou, fatou, fateremo magia, eh? Momento, fateremo magia, eh? Momento, 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 momento. Fatou, fateremo magia, sì? Io direi, una, due, e tre, e tu fateremo questo, sì? E, mágicamente, todo il mondo applaudirà, gritarà e silbarà. È magia. Vale? Està preparata? Venga, mamma. Una, due, e tre. Hai visto? Esto è magia, eh? Hai fatto una pregunta. C'è te può dire? Ah no, no, che te pregunte. Una pregunta. Alguna pagata ha repartito pizza motu? No. Menos mal. Me dice che sì, denuncio a los padres. E un'altra pregunta. Alguna pagata ha menciato pizza? Sì, sì, ma meno mal. Dice che noi también denuncia a los padres. E, entonces, faceremos una prova de repartidora. Questo è l'uniforme di repartidora. De verano. Polare de verano, eh? È un polare de verano. Venga, mamma. Perfetti. È la protezione della testa. Perfetto. E abbiamo una repartidora de pizza. E ora la parte importante. Prende quadro pizza, fa tu. Prende. E puoi camminare? Camminare con me. Facci una volta l'escenario. Facci una volta. Vieni qui, vieni qui. Vieni, 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 vieni. Mira al pubblico. E forte applauso per la repartidora. E io penso che Fatu puede portare più pizza, eh. Fa más aquí, más? Sì, sì, sì. Más aquí? Sì, sì, sì. Valiente, valiente. Valiente, aquí. Venga. Allora. Vieni con me. Vieni con me. Camina, camina, camina. Con la pizza camina. Perfetti, perfetti. E allora, mira al pubblico. È forte applauso per la repartidora. Per favore. Otro pizza. E io penso che Fatu è una fenomena e Puede portare più pizza, eh. Sì, sì, sì. Un momento. Fatu. Modo professionale. Te il modo professionale. Più pizza. Tu chieda, chieda. Fatu. Tu e aguanta. No, non mi dici che non sapi lo che ti viene. Aguanta. Ahì. Più pizza, più pizza. No, più pizza. No, più pizza, più pizza. Fatu non aver levantato la mano. No, più pizza, più pizza. No, più pizza. No, più pizza, più pizza. Va bene, va bene, va bene. No, un momento. No, no, un momento. No, no, un momento. Fatu. Está qui Fatu. Aquí la teia está, eh. No, sei io. Está qui. Allora, Fatu. Faceremo solo quattro passos. Recto, ya está. Solo quattro, vale? Sì. Ne sentiamo la collaborazione di pubblico, eh. Per favore. E lo faremo preparati. e conteremo la spazza di Fatu. Fatu, non è per posarti nerviosa, però se ti cavo la spigia, la spagas tu. Ne ha cambiato la cara. Venga, forte. Attenzione. Forte, Fatu. Preparati. E comencei, Fatu. Una. Dos. Forte, forte. Tres. In quattro, cinque, cinque, cinque. E' stato fatto. La migliore ripartidora di pizza di tutta Catalunia. E come l'ha fatto molto bene, io tengo un regalo per te. Tengo per qui. Un momento. A vera. La propina del repartidore. Un centimo. Fatu. Fatu mi ha mirato e sta pensando. quando il tio del bigote mi ha fatto salire a fare il ridicolo 15 minuti e mi dà un centimo. Sobretodo non te lo gasti di colpe e invierti criptomonedas. No, Fatu. Lo che passa è che questa, ascolta bene, è una moneda magica. Questa notte, antes di andare a dormire, prende la moneda e collocala sotto il cuscì. e v'aurà scondermata al mattino. Magicamente la moneda si avrà convertito in golosinas. Ha venito la famiglia per qui, è buona. Ricordare che non è più bello che l'innocenza di un bambino, capisci? E se no se lo explichin. Applausi per Fatu. Perfetti. E chi ne salta un nome? Judith. E il tuo nome? Joan. Judith e Joan. La cena speciale. Ai, piratiglia. Per favore, Peppino. Questo con la fanta però è in Italia. Un'amica di orangina. Perfetti. E ora un'amica di amaretto milaneso. Questo pega forte. Un poco di amaretto. Ben cargado di amaretto. Al fine e al capo stiamo di vacazione. Perfetti. E finalmente il liquore secreto. Agua del butter dello amigo desde aqui de la china. Certo. Segreto. L'hai provato in nota cagarrina todavía. Un poco di acqua del butter dello amigo. perfetti removemi e tastami mmm magico e servirmi un'amica per giudice buono buono orangina amalfitana ma dove sta la mescla momento momento e per giuano amaretto milaneso ma dove sta la mescla e finalmente per me acqua del batter de los amigos e a chi no queda re de res ma dove sta la mescla del cocktail no la mescla sta in la barriga del pepino pepino il cocktail è per i clienti non per te il cocktail è buono l'ho provato no pepino ora no che non è covid free tiene baba tutto per me ma marcia marcia giudice juan bebere no ma mangiare sì lo spiace lo spagheti con tomate all'agricano glutini che moda che hai ora e poi non passa nada una cagarrini a sta va via in operazione bikini bueno pepino due razioni speciali senza glutini per questo clienti per favore marciando due razioni de spaghetti con tomate e due razioni speciali cucina minimalista una spaghetti è un tomate cucina dottore 25 euro un momento oh mira 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 e fino a questo che è un anillo un anillo de pedia che lito è juan e nel spaghetti lo teniamo è la versione della dama e il vagabundo di tarragona e colocare 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 oh che bello l'amore applausi per questa pareglia che bellissimo l'invito vai vai dopo questa declarazione l'amore la pregunta è clara è para quando la boda para quando los bambini quanto 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 ah si quantos bambini vai a tenere vai un numero un numero un numero no che hai che dar l'alegria al mondo tre tre va tre di ninguno a tre si è animato rapido suan le preguntamo da qui cinque minuti e coge una furgoneta parlando parlando furgoneta claro con tre bambini necesitiamo un auto più grande di che colore il nuovo auto non lo parlare no perché il colore dell'auto sempre è la prima discussione sempre guarda di che colore blanco discreti discreti la famiglia di giudice e pepino io chiedo facere il primo regalo di boda a questa pareglia la tarta nuziale per favore pepino la tarta la tarta specialità della mia casa che è la tarta che mata andate la tarta che mata pepino marchando la tarta che mata la 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 perfecto pepino crema esto è seguro? no pero nel circo sienta il riesgo e a Joan non se le va a quemare il pedo vale poi io quemo e me voy perfetto attenzione signora e signora momento Roberto Baggio tiene muy mala punteria a che faltaria quello di nello deja io de coda con la pelota se l'ha si l'ha incontrato tu es tuya te la quedas chai che mi sto quemando signora e signora la specialità della casa è la tarta quemata e in questo momento la gran pregunta è perché la gente non se casa per amore no la gente se casa per los 15 días di vacazione se non sono autonome e soprattutto per il viaggio di vodas per il viaggio di vodas e per decidire il destino di Judith e Joan lo faceremo entre tutto il pubblico perché tutto il pubblico sta invitato gratis al viaggio bravo 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 e noi tambien andiamo a fare la maleta e per decidire il destino faceremo un gioco Judith e Joan tutto il pubblico e pensiamo un paese Europa e nos quediamo con la ultima letra per esempio se pensano Portugal la L se pensano Luxemburg la G ma Portugal e Luxemburg non vale che lo dito io pensare un paese d'Europa Pepino has pensato il tuo paese d'Europa no come che no l'Europa si che no che è un viaggio special andiamo più lontano andiamo all'America andiamo al Caribe ah si non hai problema ma pagano aci che per favore tutto il pubblico Judith e Joan che sta pensando che le va a costare il viaggio e in questo momento questa parella sta nerviosa pensando che tutto lo che ha passato oggi è frutto della casualità no tutto tutto stava scritto nel destino dell'antipasto questa è la caja magica della mia mamma durante tutto l'espettacolo è stato nel mostradore sin toccare è fermata a un lucchetto a un candau per favore pepino la clau donare la clau a Judith a apropare la caixa io non toco res obrire la caixa perfecti obrim la caixa i dell'interiore traiem un tub amb un paper per favore Judith prendere il paper prendere per l'altra banda mi facile perfecti e leere a micròfono che pone paper avui 22 de juliol de 2023 Judith i Joan Judith ha scritto a mar es coneixeran a l'antipasti ell li demanarà matrimoni es casaran tindran 3 fills es compraran un cotxe blanc i aniran de viatjar de noces amb tot el públic un momento per favore el público que está en silencio porque está diciendo dios mio lo que acaba de leer a la de 3 dirà il paiz de Amèrica que ha pensato forte una due e tre Argentina Argentina no falla els papà sempre diuen Argentina els bambini sempre diuen Eurodiste a capara dell'ere e del poliamore Tarragonini ma questo che a capara dell'ere e cori la